E' tutto pronto per l'inizio dell'edizione 2015 di Libri nel Borgo Antico a Biceglie, la più importante rassegna dedicata alla lettura nella nostra regione. Tutti i nomi degli autori. Tanti i nomi che quest'anno affollano i tre giorni di Libri nel Borgo Antico. La rassegna che porta a Biceglie è il meglio dell'editoria pugliese nazionale. A calcare per primo il palco di Piazza Duomo venerdì 28 agosto è il poeta Davide Rondoni, con E se brucia anche il cielo, seguito dal sociologo psichiatra Paolo Crepè con Il caso della donna che smise di mangiare e dal giornalista Antonio Caprari, caperanni corrispondente Rai, che porta a Biceglie il romanzo di Londra. Chiude la serata la conduttrice TV Rosanna Lambertucci che parlerà della sua storia con E sono corsa da te. Sabato 29 agosto si apre con l'Arcivescovo Metropolita di Taranto, Monsignor Filippo Santoro con La forza del fascino cristiano, seguono Pino Aprile, giornalista e scrittore, con il suo Terroni International e il campione mondiale di pugilato Patrizio Liva con il libro Sparviero. Magia e scienza chiudono il sabato di Libri nel Borgo Antico con il mago Silvan che racconterà la sua storia con La magia della mia vita e Mario Tozzi, geologo e conduttore televisivo con Tecnobarocco, tecnologie inutili e altri disastri. Domenica 30 agosto Piazza Duomo ospiterà Don Aniello Manganiello, parroco di frontiera che lotta contro la camorra con il suo libro Legalità e scrittura in cammino verso Santiago. A seguire Mauro Kovacic con il romanzo La sposa sul podio del Premio Strega 2015, il giornalista bicegliese Marcello Veneziani, abitue della rassegna, e Cristina Chiabotto Miss Italia 2004 con il suo Di notte con tavole stelle, chiude i libri nel Borgo Antico, la straordinaria partecipazione di Albano Carrisi. Agli autori che si alterneranno sul palco di Piazza Duomo si aggiungono altri 90 scrittori che già dal pomeriggio presenteranno i loro libri nelle quattro piazze che ospitano la rassegna, tra questi Alessio Viola, Luca De Ceglia, Francesco Caringella, Lino Patruno, Pippo Corigliano e Mattia Giuramento, solo per citarne alcuni.